ciao a tutti oggi vi suggerisco un plum cake all'arancia quindi prendiamo le uova e li mettiamo in una terrina insieme a zucchero e pizzico di sale lavorate molto bene unire il succo d'arancia la scorza l'olio farina e lievito setacciati quindi lavorare ancora imburrate molto bene uno stampo ed infarinate messa tutto il composto infornate a 180 gradi per circa 30 35 minuti appena sfornato si presenterà così quindi adesso cosa faccio prendiamo lo zucchero a velo lo mettiamo in una ciotola e mettiamo anche il succo d'arancia mescoliamo molto bene io aggiungo un pizzico di cannella per tutto a piacere comunque adesso prendiamo la glass e la mettiamo sopra il plum cake così mettiamo un po di scorza d'arancia sopra pronto super soffice guardate come si spezza una vera goduria grazie a tutti Grazie a tutti.